Tutti a lezione d'impresa con il manager Roberto Delia, iscritto all'albo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consulente di direzione ed organizzazione aziendale, che ha dato alle stampe Formazione 4.0 Il Futuro. Un manuale innovativo sulla formazione aziendale digitale e su tutti gli incentivi pubblici che favoriscono la crescita delle aziende in chiave 4.0. Un caposaldo della nuova cultura d'impresa che ha chiuso a Eboli il suo lungo tour di presentazioni dopo aver fatto tappa anche a Roma al Senato. Ma sentiamo l'autore. Dopo Salerno, Oderzo e il Senato della Repubblica, oggi Eboli in questo importante appuntamento che continua sul territorio nazionale. Una chance importante dal punto di vista occupazionale perché la formazione rappresenterà il futuro delle aziende. L'innovazione rappresenterà il futuro delle aziende e attraverso questo nostro importante lavoro sul territorio nazionale stiamo cercando di diffondere questo concetto quanto più possibile. Parterdecezione per l'appuntamento nella Sala Mangrella del complesso monumentale San Francesco con autorità civili e istituzionali, esponenti della politica, rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e dell'informazione. Una sala qualificata e attenta alla direzione in cui va il mondo delle imprese. Abbiamo incontrato Giancarlo Prisutto, amministratore unico della Leonardo SRL. Siamo convinti che oggi e per il futuro la transizione 4.0 sia la chiave di volta per le imprese italiane. Tradotto in doppia versione in italiano e in inglese, il libro di Delia ha conquistato anche il mondo delle istituzioni. Sentiamo il parlamentare Attilio Pierro e il consigliere regionale Andrea Volpe. È indispensabile fare ognuno la sua parte, le aziende si devono aggiornare, devono andare avanti con le nuove tecnologie, ma anche la politica deve fare la sua parte. La politica ha avviato questo percorso, anzi con il credito di imposte, perché comunque è stato un avviamento importante con il credito di imposte per dare dei fondi alle aziende per migliorare. Sì, insomma vengono investiti tanti milioni di euro da tanti anni sulla formazione, non soltanto dalla regione Campania ma dal governo, dai fondi interprofessionali, dalla comunità europea. Dobbiamo soltanto saperli spendere questi soldi, davvero.